Per tornare alla guerra in Ucraina, perché oggi Putin ha rifiutato la richiesta di una tregua umanitaria per Mariupol, finché l'acciaieria Azovstal non si arrenderà e pare che non si arrenderanno. Sempre oggi però Mosca ha detto che martedì prossimo il presidente Putin riceverà il segretario generale dell'ONU Guterres. Lo stesso giorno Biden ha convocato a Rammstein in Germania alla base Nato una riunione di tutti gli alleati del patto transatlantico. Sono buone o cattive notizie? Anche perché Putin allo stesso tempo ci ha fatto sapere oggi che lui vuole tutta la striscia. Io vorrei essere ottimista nel senso di interpretare questi segnali, la possibilità di una mediazione dell'ONU, che poi vuol dire semplicemente avere una garanzia dei corridovi umanitari, come il segno che forse riusciamo dopo il massacro di Mariupol e dopo l'inevitabile presa a questo punto di completa di Mariupol da parte russa ad arrivare a una fase decisiva. Arriviamo finalmente, io credo, a negoziare qualcosa. Sì, Putin probabilmente vorrebbe arrivare a Odessa e magari da lì risalire verso Kiev, però non ne ha le forze. Può invece ridurre a mal partito l'esercito ucraino che sta chiudendo in una sacca nel Donbass, quindi questo è un dato di vantaggio suo. Ma io penso che sarebbe ora di cominciare a parlare più di negoziato. Per esempio, vorrei sapere, noi sappiamo che cosa vogliono i russi, ce lo dicono ogni giorno. Ma Kiev che cosa vuole? Io ancora non ho capito bene. Cosa vuole l'Ucraina? Nel senso, allora vogliamo indietro tutto quello che i russi hanno preso, ma allora però dovrebbero chiedere alla Nato di intervenire, perché chiaramente da soli non ce la possono fare. La Nato ha detto che non vuole intervenire. Allora, qual è l'obiettivo? Perché poi alla fine l'obiettivo di Kiev dovrebbe essere anche l'obiettivo nostro e noi dovremmo partecipare a questa discussione.